Sta luce accegando. Allora, facciamo una cosa leggermente diversa rispetto al solito, non sono qui a proporre giochi da comprare o quant'altro, l'ho fatto nelle vecchie versioni dello svilupparti e volevo parlare di una cosa nata durante la pandemia, nel 2020, marzo 2020, quando la pandemia è arrivata nelle case qui in Italia e da lì a poco è arrivata nel resto del mondo. Per cercare di capire un po' l'impatto psicologico che la pandemia avrebbe avuto di noi, avendo una piccola comunità su Telegram, ho cercato di intrattenere con una sfida di disegno, con vari mezzi tipo pixel art, voxel e quello che è, le persone presenti in modo da distrarci un po' da quello che stava succedendo, dato che i nostri hobby, passioni e interessi erano limitati ormai all'uscio di casa o per i più fortunati nel cortile. A metà di questa sfida mi contatta un ragazzo, il tema era spada da fare in voxel e mi invia questa cosa. Non si vede un cacchio, mi spiace, comunque dovrebbe essere una spada. E mi fa, sta cosa l'ho fatta in Mindtest. E io tipo, aspetta, io sta cosa l'ho già sentita. E ora vi spiegherò ovviamente che cos'è, ma questa è l'inizio della mia avventura, tra virgolette, che in due anni mi ha portato a essere membro dell'organizzazione di Mindtest, che è un progetto software libero, open source, chiamatelo come volete, che trovate quindi su GitHub, programmatori, artisti, quello che è. E niente, una cosa alla volta. Probabilmente le due domande che di solito bazzicano nella testa di qualcuno quando sente Mindtest è, ok, stiamo parlando di un clone, di Minecraft, prima di tutto, perché anche il logo comunque ricalca quella cosa. E perché comunque vi siete buttati durante la pandemia, perché volevamo comunque intrattenere anche noi stessi su Mindtest e non su Minecraft. Ora, la risposta breve alla prima domanda e non più da qualche anno, ma ci torneremo un attimo, mentre per il secondo punto è un discorso un po' complesso, i motivi in verità sono vari. Metterò dentro un attimo un po' di filosofia, spero di non spaventare nessuno. Allora, il nostro obiettivo, in quel periodo la scuola o anche tipo il lavoro come la didattica a distanza eccetera è passata al computer e cose che sono successe da universitario che ero al tempo è che l'istruzione pubblica anche è passata in mano a delle piattaforme private che anche oggi stanno cercando il GDPR e cose così stanno cercando di regolare in qualche modo il problema è che uno studente, una studentessa doveva per forza usare piattaforme proprietarie che raccoglievano dati per una cosa come il diritto allo studio non sono qua per fare politica e questa cosa ci faceva storcere molto il naso e per i videogiochi più o meno è stato simile senza cercare di infamare nessuna compagnia penso che abbia fatto abbastanza scalpore al tempo quando un giocatore di Hearthstone dopo che ha esclamato il grido della rivoluzione di Hong Kong era stato privato dal suo premio perché alla compagnia che c'era dietro, League of Legends e Blizzard in verità non andava bene questa storia poi i soldi sono stati ridati e abbiamo detto ok perché non provare a sviluppare qualcosa che possa essere indipendente da queste dinamiche politiche più o meno infelici a seconda dei casi queste cose erano state trattate da vari questa è una docente universitaria di filosofia politica dell'università di Pisa lì invece era un discorso che ora non sarò qua a spiegare sui videogiochi che parlava anche del caso Blizzard e questo discorso della raccolta dati solitamente veniamo reputati degli idealisti o quello che è il problema è che poi quando ci troviamo anche cose come questo internet delle cose di un gabinetto in questo caso Microsoft quando andiamo a fare pipì o popò perché esattamente devi raccogliere dati su quello che sto facendo in bagno è la persona di nuovo magari idealista cresciuta che poi per lavoro lavora nell'industria per carità però nel mio tempo libero cresciuto con Playstation, Game Boy cose che non si connettevano a una rete e che il momento del gioco era il mio momento senza condividerlo per altri fini queste cose ci turbavano abbastanza non è comunque l'unico motivo il secondo è che parlando di software libero so che sembra una presentazione da Lug nel secondo caso uno sviluppo trasparente quindi su Github quindi chiunque può vedere il codice chiunque può partecipare chiunque può partecipare anche alle riunioni pubbliche dove viene spiegato dove questo motore di gioco che è Mindtest sta cercando di andare e dove invece no questo crea una comunità che è un po' c'è un po' un caos però è normale e potete appunto trovare tutto per i programmatori soprattutto nella repo di Mindtest tutto ciò che è associato a questa cosa un terzo motivo e se vogliamo parlare di funzionalità dato che la gente tende a paragonarlo a Minecraft anche giustamente è che per chi ha delle esperienze su Minecraft voi non potete mettere su un server tutto quello che volete tipo i modelli 3D ci sono delle vie un po' traverse ma sono complesse non sono proprio certificate tra virgolette e qua invece qualsiasi cosa qualsiasi contenuto voi volete mettere su un server sia un modello 3D sia un'interfaccia sia 20 nuovi blocchi potete farlo tranquillamente perché non stiamo più parlando di un videogioco e ci arriverò tra due secondi ma di un motore di gioco in voxel infine la geolocalizzazione intesa come localizzazione di lingua è incorporata quindi se voi vi connettete a non so un server e avete il client in italiano vedrete le cose in italiano se le avrete in inglese in inglese e via dicendo che è una cosa molto comoda poi una seconda domanda dato che la gente dice ok sta facendo software libero ma perché lo fai su questa cosa di nicchia a cubetti e non per esempio su Godot ho visto gente con magliette di Godot qua a giro e il punto è che l'infrastruttura è già pronta il mondo già esiste c'è un multigiocatore implementato a prova di chiunque ci sono shader come le ombre dinamiche che invece su Minecraft vanno adottate a parte c'è un negozio tra virgolette perché è tutto gratuito per personalizzare i vostri giochi le vostre avventure ed è tutto implementato dentro il client non avete bisogno di dover smanettare imparare dove mettere file nelle cartelle e via dicendo quindi Godot si va benissimo ora sta anche per uscire la 4.0 ma se volete fare qualcosa in voxel non c'è bisogno di rifare la ruota quando ci sono già persone che ve la offrono stiamo parlando di qualcosa in C++ quindi ottimizzato al massimo con modaggio in lua per chi vuole mettersi poi a parlare di programmazione e qui ci porta alla seconda e ultima domanda di questa presentazione che è ok ma quindi stiamo parlando di un clone di Minecraft alla fine la risposta è non più perché più di dieci anni fa questa persona che ora non si occupa neanche davvero più dello sviluppo l'aveva iniziata completamente per sfizio inconscio di quello che sarebbe diventato poi nel tempo abbiamo avuto una comunità che si è ingrandita sempre di più e da videogioco che cercava di essere effettivamente un clone è diventato quello che è un motore di gioco quindi un engine che permette di fare molte più cose e il nome che è abbastanza discutibile però è dovuto al fatto che appunto l'autore originale non si aspettava una cosa del genere e ormai è ovunque cambiarlo potrebbe essere un bel rischio e quindi ci teniamo quello che è tuttavia se uno vuole un'esperienza dato che si possono creare più giochi con questa cosa c'è un gioco apposta chiamato mineclone 2 o mineclone 5 che ricalca perfettamente o quasi perfettamente l'esperienza di minecraft tutta questa roba ripeto è gratuita il codice sta lì potete farci quello che volete e dove siamo oggi? poi concludo praticamente da un mese e mezzo lo sviluppo di questo strumento si è raddoppiato perché ci sono delle riunioni c'è un'organizzazione le riunioni a cui potete anche partecipare dicendo la vostra nel pieno rispetto delle persone si intende? e dei miglioramenti grafici in arrivo perché quello che succede solitamente quando voi date a un programmatore qualcosa da fare a livello grafico è questo questo è un pezzo del menu principale del client che è molto discutibile quindi con tanta buona volontà io e un'altra persona in quanto pixel artist ci stiamo un attimo mobilitando per ok vedete tutto sfocatissimo però mi spiace per ottimizzare qualcosa che anche a livello di esperienza utente sia molto più bellino colorato e ricalchi un'esperienza in pixel o in voxel tra l'altro da un mese e mezzo tre mesi scusate potete seguire un blog al link messo lì che vi spiega tutte le novità che stanno avendo fatto su questo software libero a cubetti o voxel che dir si voglia e infine questo è quello che noi abbiamo deciso di fare durante la pandemia ovvero creare qualcosa che potesse essere velocemente riproducibile e con poca manutenzione quindi siamo andati essenzialmente a riproporre quelli che su minecraft sono i server minigiochi perché un minigioco comunque comporta poco tempo di sviluppo rispetto a un gioco lineare quale può essere non so un gioco di ruolo perché dovete mettere i mostri le missioni questo, questo e quell'altro e non finite più abbiamo nove minigioco disponibili l'accesso è completamente di nuovo gratuito ci sono skins bloccabili l'interfaccia tutto quello che vedete è stato fatto da noi dalla grafica a il codice che sta dietro e organizziamo dei tornei ogni circa due mesi per divertirci non ci sono soldi in palio perché nessuno lo fa a scopo di lucro ma è un modo per noi per divertirci e magari creare anche un'alternativa valida un giorno chissà considerando i tempi di sviluppo si spera a quello che è Minecraft oggi ci sarebbero tantissime altre cose da dire ma il tempo è quel che è quindi vi ringrazio spero che la cosa vi sia perlomeno interessata il sito è minetest.net e niente grazie ancora grazie 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 grazie